Facciamo entrare la nostra Francesca Angioletti, facciamo un applauso. Buonasera, buonasera. Buonasera, Francesca ha portato un cadeau per te, Francesco, quindi da Francesca a Francesco. Il calendario di Miss Pomezia. Il calendario di Miss Pomezia e noi saremo il 13 luglio al mare in villaggio di Torvajanica. Io lo faccio vedere. Vi aspettiamo numerosi, numerose. C'è la finale di Miss Pomezia, capitanata dal patron Ida Maggio e in giuria... Tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Matilde Brandi, la presidentessa. Quindi saremo io e lei, prima esperienza di conduzione. Quindi Francesco abbiamo bisogno anche di un giudizio, noi vi aspettiamo al mare in villaggio. Il posto fantastico per la finale di Miss Pomezia, ok? Io mi do in bocca al lupo intanto a lei e all'organizzazione. Grazie Francesca per i stessi complimenti. Grazie a voi. Facciamo ancora un'altra pausa Francesca e vi aspettiamo il 13 luglio.